Belva! Bervola! 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 Non ti muovere! Digo, si lancia le mani! Se muovi un dito spariamo! Sei fottuto, Belva! E vedi di rispondere a tono, perché questo signore conosce molti modi per farti sciogliere la lingua. Sì, sì dottore Guarico, sono qui proprio a dire tutto, eh. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Tutto. Io! Non vuoi parlare? Non vuoi dirmi proprio niente? E delle gemelle Anne Babette Brau? Che mi dici? Sei un duro, eh. Sei uno che tiene la bocca chiusa, eh. E della strage all'aeroporto di Düsseldorf che mi dici? La strage! Perché non parli? Perché non vuoi parlare? Non fare il furbo. Guarda che io posso andare avanti fino a domani mattina. Eh sì dottore, ma io credo di no, sinceramente. Da capo. Da capo. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Telefonate alla questura. Telefonate al commissario Auricchio. Telefonate ai caporeparti. Telefonate a tutti i colleghi. Telefonate al capo della cosa. Telefonate. Telefonate che prima lo fate, prima andiamo a letto. Prego. Beh, però anche lei signor Fracchia poteva parlare. Dircelo subito. Che ci voleva? Eh, che ci voleva? Sa, lui anche... Insomma, scusi, ma... Sì, buonanotte signor Fracchia. Buonanotte. La sua macchina è giù. Benissimo. Eh, a proposito, le abbiamo dato ovviamente una guardatina. Un'altra? Attenzione, Fracchia! Attenzione, Fracchia! Che fa Fracchia? Dritto! Vada dritto, Fracchia! Attenzione! Un po' più a destra! Un po' più a destra! Un po' più a destra! Che fa Fracchia? Giri! Fracchia! 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 Fracchia!